Diminuisce leggermente il numero dei morti in incidenti stradali nel Salernitano e quanto emerge dalla lettura dei dati ACI-STAT sull'incidentalità in provincia di Salerno per il 2023. In quest'anno si sono verificati 2.553 incidenti contro i 2.570 del 2022. Oltre 3.700 i feriti, una quarantina in meno dell'anno precedente e purtroppo 52 morti contro però i 58 del 2022. I comuni con più decessi per i sinistri stradali risultano essere Salerno e Eboli con il drammatico numero di 5 vittime nel 2023. Segue Capaccio 4 vittime mentre Atena Lucana, Camerota, Rocca Gloriosa, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sapri e Sassano ne registrano una ciascuno in quell'anno. Salerno è anche la città con più incidenti, ben 532, Capaccio è al terzo posto nel 2023 con 144 sinistri. Fuori dalla Top Ten si trovano Agropoli all'undicesimo posto con 52 incidenti e Sala Consilina al tredicesimo con 46. Vanno messe in sicurezza molte strade dove continuano a ripetersi incidenti, ha aggiunto Giovanni Caturano, direttore dell'ACI Salerno. Il maggior numero degli incidenti risulta essere laterale, seguono poi i tamponamenti, l'investimento dei pedoni, urti con veicoli fermi, scontri frontali e la fuoriuscita dalla sede stradale. La maggior parte dei sinistri si verifica a causa della guida distratta, del mancato rispetto della segnaletica, della velocità, del mancato rispetto della distanza di sicurezza. L'attenzione rimane quindi il principale comportamento per evitare incidenti.